Per Marlin e Dori il viaggio con le tartarughe è quasi terminato. Allora siete pronti? Venti? Preparatevi! Il prossimo spingolo è il vostro! Lo vedo, lo vedo! Andala lì! Lo vedo, lo vedo! Vuoi dire che il turbinoso partice di terrore? Proprio quello, bello! Ecco quello! Per prima cosa, scegnete un compagno di uscita! Anche tu ce l'hai un compagno di uscita? Sì! Bene! Adesso Guizzo vi riassumerà le modalità per una corretta tecnica di uscita! Buon pomeriggio a tutti! Oggi faremo un lancio fantastico! Ok, appena meccate la parete fate un top-back! La curva sul fondo è tolta, quindi fate attenzione! E ricordate, ripate, trollate e poi roppate! Sta cercando di dirmi qualcosa, me lo sento! Sai, sei proprio carino, ma non capisco cosa stai dicendo! Ricomincia da capo! Ora salto Medusa! Vai, 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 vai! È Guizzo a lanciare Doni e Marlin nel tortuoso tunnel d'uscita! Una volta fuori, la corrente orientale scopre sulle loro teste! È cibo! È cibo! Ha, 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 ha! Wooo!